Ben ritrovati con il telegiornale Il Lingua dei Segni. Sono stati presentati i 5 progetti per la ricostruzione di casa Micciola Terme degli architetti Massimiliano e Doriana Fuxas che riguarderanno il Pio Monte della Misericordia, Piazza Marina, Piazza Bagni, Piazza Maio e Sorgenti, Larita. Oggi al via la 45esima edizione del premio Ischia per il giornalismo. Domani sera a Villarbusto, alla Cameno, avverrà la premiazione dei premi internazionali di giornalismo. Il bicentenario del Pio Sodalizio dei Marinai nella Chiesa del Buon Consiglio a casa Micciola, il racconto dei festeggiamenti tra incoronazione della Madonna, intronizzazione della nuova statua di San Giovanni Battista e le immagini della processione per le strade ed i vicoli della Marina. Il tutto andrà in onda in uno speciale questa sera alle ore 21.10. Questa sera alle ore 21.00 la spiaggia libera di San Pietro vedrà l'esibizione dell'artista Alex Britti. E questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.